Allora, ci avviamo alla conclusione del momento della nostra intervista. Ci è sembrato doveroso, visto che è la prima puntata, parlare con qualcuno che del lavoro non soltanto ha curato, come dire, gli aspetti più tecnici, ma ne ha fatto anche una disciplina, ne ha guardato gli aspetti anche meno noti. È per questo che è davvero un privilegio per noi avere in collegamento il professor Domenico De Masi. Buongiorno, professore. Allora, intanto la ringraziamo per il tempo che ci sta dedicando. Le faccio subito una domanda molto veloce, più che altro una curiosità. Lei quando ha capito cosa avrebbe fatto nella vita o cosa voleva fare nella vita? Ma l'ho capito all'ultimo anno della mia università, perché facevo giurisprudenza ma non mi piaceva e scoprì che in un'aula accanto alla nostra c'era una lezione di antropologia culturale. Ascoltai la lezione, mi piacque, chiesi al professore dove si imparavano quelle cose, mi disse che si trattava di sociologia e che bisognava andare a Parigi e poi di lì in poi ho fatto il sociologo. Questo è testimonianza del fatto che si può capire anche tardi, insomma relativamente tardi e si è sempre in tempo per cambiare. Certo, ma poi ora con l'attuale organizzazione del lavoro bisogna cambiare più volte nella vita, probabilmente, tenendo conto soprattutto degli aspetti tecnologici. Per esempio, sentivo voi che dicevate prima che ci sono, non so, 30.000 posti, 11.000 posti di pastai, eccetera. Ma dipende dalla tecnologia. Se nel frattempo si mettono sul mercato delle macchine che sostituiscono il lavoro manuale dei pastai, questi 11.000 pastai non servono più. Senta, professore, devo dire che insomma quando si fa il suo nome la prima cosa che viene in mente è la teoria che lei sviluppò negli anni 90, quella dell'ozio creativo. Io la sintetizzo, spero, in maniera non eccessivamente brutale per quelli che non la conoscessero. Lei diceva, nella società post-industriale a noi non spetta più la manualità, ma la creatività. Dunque, lavoro e studio e gioco si confondono. Ora, va detto che lei l'ha sviluppata negli anni 90. Vista oggi, e negli anni 90, youtuber, influencer, figure come questa, non esistevano. Vista oggi sembra, insomma, che lei sia stato estremamente precursore. Una soddisfazione gliel'avrà data questa cosa, immagino. Beh, devo dire che ci voleva poco a immaginarlo, perché man mano che si va avanti si riducono i lavori manuali, e si riducono anche i lavori intellettuali di tipo esecutivo, cioè si riduce il numero degli operai, si riduce il numero degli impiegati, e aumenta invece il numero dei creativi. Ora, mentre un operaio alla catena di montaggio può soltanto lavorare e annoiarsi, non può fare altro, invece il lavoro creativo consente di divertirsi, di farlo con divertimento, con soddisfazione e con apprendimento. Professore, lei si è occupato per tanto tempo anche di selezione del personale per grandi aziende. È normale chiedersi, no? Fra l'altro anche il suo ultimo libro, Il Parte, parla di questo. Insomma, mi chiedevo quali sono le caratteristiche che fanno di un lavoratore un buon lavoratore, un lavoratore da selezionare, e quali sono invece quelle che fanno un buon dirigente? Beh, sì, di questo mi occupo molto in questo mio ultimo libro sul lavoro, che non a caso è intitolato Il lavoro nel ventunesimo secolo. Cioè, come cambia la serie di qualità che occorrono per avere un lavoratore soddisfatto e quindi anche più produttivo? Beh, intanto bisogna tener conto delle vocazioni personali. Ognuno di noi ha una vocazione, o due o tre vocazioni, ma non di più. E quindi dovrebbe scegliere qualcosa che rientra in questa vocazione. Poi tener conto di che cosa cambia di più e che cosa cambia di meno. Quando mi chiedono, ma mio figlio che il lavoro dovrebbe fare per essere sicuro che non terminerà, che non sarà sostituito dalle macchine, io scherzosamente, o non tanto scherzosamente, dico, ma l'unico lavoro sicuro per il futuro che certamente non sarà sostituito dalle macchine è quello del parroco. Quindi si tratta di capire intanto la vocazione. Dopodiché occorre ovviamente una formazione solidissima, molto più di prima. Ed è una formazione che è ormai sempre sia umanistica che scientifica. Cioè anche un chirurgo, se è molto colto, è un chirurgo migliore. Ringraziamo il professor De Masi per il tempo che ci ha dedicato. Grazie davvero. Grazie a voi.